C'era poco e niente, 3.000 metri, una botte di bianco e una botte di rosso. C'è anche una parte emotiva perché il primo vigneto che i nonni hanno trovato piantato era questo. Quindi andiamo indietro sicuramente nel 700 almeno. Tutti parlano di autoctono, però se io da Terrenzuola vado a Udine, per dire una città a qualsiasi piuttosto che Palermo, e compro delle barbatelle che sono state selezionate in Sardegna, io non sono rispettoso. Cioè io ho il dovere, il compito di piantare il materiale genetico che viene da questa zona qua.